ciao fragoline nuovo video e seconda parte di questo gratta e vinci allora se avete visto il video di due settimane fa praticamente vedete lo stesso gratta e vinci che questo ovviamente adesso vediamo se con questo vinciamo una cifra più alta rispetto a quello che abbiamo vinto prima ma prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video e ovviamente questa tipologia di video lasciarmi un like spolliciate un commentino qua sotto quale video cioè quale video quale gratta e vinci volete che io gratti seguirmi su Instagram vi aspetto anche lì detto questo io ho preso questo che è nuovo l'ho pagato 3 euro ma tanto ve l'avevo già detto nell'altro video perché avevamo già grattato due gratta e vinci ovviamente questa è la seconda parte per cui se ancora non avete visto il video della prima parte dove ho grattato i due gratta e vinci andatelo a vedere perché non dovete perdervi la vincita non eccessiva ma sempre qualcosa meglio detto questo proviamo a vedere se vinciamo anche con questo e buona visione allora proviamo ovviamente avevo già spiegato come funziona questo gratta e vinci per cui non lo ripeto ovviamente un'altra volta proviamo a vedere sperando che riuscite a vedere meglio allora 45 che non c'è 18 ce l'abbiamo e qui poi 56 56 56 qui sopra dai speriamo che questa volta sia buona poi 54 non c'è 50 50 niente 58 niente e ma dai 60 ce l'abbiamo qua sopra e un po' scomodo grattare col cavalletto in mezzo però andiamo avanti 25 non ce l'abbiamo direi che questo gratta e vinci non ci porta fortuna il 42 non ce l'abbiamo 38 dai che manca il 61 16 ce l'abbiamo qui poi passiamo gli altri due che è il 49 che qui e il 20 che però non c'è ricontrolliamo bene mancava il 61 e il 55 che ovviamente non c'è e gli altri tre diciamo che non abbiamo vinto niente pensavo che era un po' più fortunato ma invece c'è andata male vediamo i premi se che cosa diciamo che erano un po' altini però allora se era il quadrifoglio la cucinella 10 mila euro magari magari e poi la corona che era 500 e magari sarebbe un sogno a parte che i soldi non fanno la felicità comunque niente questo è perdente questo è perdente peccato perché almeno il 61 il 55 se trovavamo almeno uno di quei due qualcosina potevo recuperare e invece dire di no è andata male anche questa niente questa volta ci è andata male per cui anche questo possiamo diciamo strapparlo pensavo che almeno vincevo tre euro almeno recuperavo e prendevo un altro gratto e vince ma invece mi è andata male vabbè detto questo prenderò altri grattevinci diversi perché avevo visto un po' nelle macchinette altri grattevinci nuovi che secondo me erano anche carini c'è anche quello da 10-20 euro però quelli lì non lo so preferisco forse prendere quelli che costano al massimo 3-4 euro perché tanto anche se vinci una cifra piccolina però l'importante è divertirsi e ovviamente divertirsi a grattare questi grattevinci perché sennò tanto vale poi i soldi ripeto non fanno la felicità vabbè niente spero che anche questo video vi sia piaciuto e spero che riuscirò a prendere altri grattevinci in questi mesetti questa volta però vorrei cercare di prenderne un po' di più perché così almeno faccio più video e li metto poi sul canale ovviamente ogni mese usciranno solo due video di grattevinci perché poi dopo se ne metto secondo me metterli tutti dopo un po' o annoiano secondo me o annoiano i video perché sono sempre gli stessi oppure non lo so per cui direi di metterli in massimo due al mese non di più tanto poi alla fine io non vado a spendere così tanto per prendere un grattevinci cioè calcolate che io spendo 3 euro l'ultima volta che ho speso 10-20 euro però sono stata un po' delusa perché è ok che non puoi vincere sempre e tantomeno cifra esagerata però c'è qualcuno che nelle mie zone ha vinto cioè ha preso cioè giuro ho sentito anche in questi mesetti qua un signore ha preso un grattevinci di 2 euro e ha vinto più di 10.000 euro solo prendendo anche solo un grattevinci di 2 euro per cui calcolate voi che cioè è impossibile che gli altri riescono a vincere io no o sono true o lo fanno apposta oppure non lo so per cui calcolate che io preferirei spendere questa cifra qua che spendere di più potresti spendere 10 euro però secondo me quelli da 10 euro da 20 euro ogni tanto vinci ma non è che per cui se vuoi calcolate alla fine non è che vinci la cifra che che ti trovi sul grattevinci praticamente per cui cioè preferirei 100 volte meglio un grattevinci da 3 euro da 2 euro che un grattevinci da 10 da 5 o da 20 euro sinceramente però vabbè questa è una è quello che penso io in poche parole ok niente noi ci vediamo al prossimo video e se volete vi piace questa tipologia di video iscrivetevi al mio canale che io vi aspetto perché ogni volta ci saranno dei video come questo genere molto molto belli detto questo ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di lasciarmi un commentino qua sotto un like oppure detto questo io chiudo e ci vediamo al prossimo video ciao